Lo sapete benissimo, le terzine cicliche sono una garanzia, vanno spesso a segno, non sempre perché il sempre non esiste all'otto, la certezza assoluta non esiste all'otto, ma con le terzine cicliche sto dimostrando veramente che è un metodo fenomenale che ormai io difficilmente divulgherò, quindi chi è interessato alle mie terzine cicliche non deve fare altro che abbonarsi, abbonarsi, ed arrivano, arrivano le testimonianze, però ho qualcosa da ridire perché ho qualcosa da ridire, perché ormai tanti di voi sono abituati a ricevere regali e poi questi regali li buttano nella spazzatura e allora ad oggi in poi sinceramente mi dedicherò solo agli abbonati e solo a chi paga la previsione, perché chi paga la previsione e chi è abbonato gioca le previsioni, mentre chi riceve i regali non li gioca, vi spiego anche il perché, perché ho dato una previsione a 250 persone e al momento non mi è arrivato nemmeno uno scontino, vi farò vedere di cosa parlo. Eccola qua, cosa avevo dato? L'ho data sabato, questa previsione sabato scorso alle 8 e un quarto se non sbaglio, ok, qui c'è l'orario, avevo dato questa previsione, vedete, terzine da giocare fino al 19 dicembre 2023, l'ho data a 250 persone, stasera è uscito 6585, come vedete, è uscito il 6585 a Bari e per poco non ci scappava il terno secco perché è uscito il 22 e noi qui, come vedete, avevamo il 21. Bene, questo è l'ultimo regalo che farò a queste persone, alle 250 persone che hanno ricevuto la previsione perché non meritano assolutamente niente, mentre agli altri che darò le previsioni, se io non dico che dovevano arrivare 250 scontini, ma almeno arrivarne 10, era il minimo che si poteva pretendere, va, proprio il minimo con 250 persone che hanno ricevuto questa previsione, ma lasciamo stare, è meglio perderle che trovarle queste persone, mi viene proprio lo schifo, proprio come si vuol dire, di regalare le previsioni. Ragazzi, io con questo ho finito, buona serata a tutti e buone vincere sempre con rosario gallo e con previsione vincenti.it, chi è interessato, dimenticavo, chi è interessato alle mie tessine cicliche, mi può contattare sul mio whatsapp e gli darò tutta l'informativa. Buona serata a tutti da rosario gallo e da previsione vincenti.it.